Scolamento del centro-destra sempre più evidente. Arriva il primo attacco indiretto alla Meloni e Berlusconi si allontana sempre di più. Una misteriosa scomparsa di cui si parla da almeno tre giorni. Ricostruzioni di mandante e movente per un gossip. Il politico strategico in pieno stile italiano, non si vedono più esponenti di Fratelli d'Italia sulle reti Mediaset. Giorgia Meloni e i suoi sarebbero stati volutamente estromessi dai programmi della rete del Cavaliere perché, ai vertici di Forza Italia o a Berlusconi stesso, questo non è chiaro, non sarebbe gradita la verve della leader di FDI. Vista come una mancanza di rispetto nei confronti dei suoi alleati di centro-destra, una recente risposta della Meloni avrebbe portato al BAN dalle trasmissioni di approfondimento di Galeazzo Bignami, Elisabetta Gardini e Guido Crosetto. Loro e non altri solo per questioni di circostanze, tutti i membri del partito al momento non sembrano graditi. La divisione del centro-destra appare profonda, ora più che mai. Secondo Dictat arrivato da Arcore l'espulsione non ha neppure una data di scadenza, ma il vero crucio è chi ha dato l'ordine. Nessuno vuole prendersi le colpe e anzi, Berlusconi si sfila guardando al domani e parlando di nuove intese per ricostruire un fronte solido in vista delle politiche, ricostruendo la faccenda si nota questo, lunedì sera Giorgia Meloni dice di non, dovere niente, al leader di Forza Italia e con ciò si espone pericolosamente. Appena due giorni dopo questa sua infelice uscita durante Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro su Rete 4, vengono stroncati uno dopo l'altro i suoi compagni di partito.